oggi siamo qui in un bellissimo centro casting uno dei più importanti d'italia con noi c'è chi infrange i sogni proprio di chi vuole entrare in televisione chi sarà qui con noi oggi direttore buongiorno direttore buongiorno mi scusi so che lei è molto impegnato a lavorare mi spiace disturbarla in questo momento cosa vuol dire infrangere i sogni delle persone buon esempio arrivano le mamme con le figlie non esteticamente perfette per fare la velina e mi dicono mia figlia voglia fare la velina e il signore la sua figlia non farà mai la velina e si offendono e mi offendano cioè mi dicono di tutti i colori però penso che in questo mondo di la verità le persone è la cosa più importante e comunque l'avete riconosciuto lui è l'inglese più famoso d'italia o l'italiano più famoso in inghilterra filippo nardi e allora filippo per diventare una star io non lo so perché sono capitati in televisione per errore e io ho sempre seguito la strategia di essere me stesso che praticamente l'unico se so fare a volte bene a volte no e a volte è un vantaggio a volte svantaggio come qualcuno magari ha visto quello che dico specialmente le ragazze carine che pensano che sia un mondo dove si guadagna facilmente e arriva tutto vestiti gratis quant'altro di fare un corso di giornalismo perché a quel punto sono tutte protette dall'ambo dei giornalisti e non sono come noi a partita iva quando anticipi le spese perché questa è la verità della televisione e allora come avete capito un consiglio da filippo nardi non illudetevi non è così semplice i guadagni non sono così facili assolutamente no ci vuole tanto impegno e tanto studio tanto tanta fortuna e allora grazie consigli seguiamo i consigli di filippo nardi che vedete è una persona più che seria a voi che ci seguite a tutti i ragazzi e tutte le ragazze che ci seguono provateci perché è giusto provare no filippo uno come te è un miracolo che sta in televisione uno come me è un miracolo ma già insultato almeno 50 volte ma ci sta perché è giusto così c'è sempre da imparare nella vita perciò decidete voi o me o filippo dj events andrea biandrino e insultatevi grazie a tutti grazie a tutti